ciao ragazzi sono giuseppe e benvenuti in questo nuovo video ieri sera nonostante si sono giocate le diverse amichevoli tra tre squadre tra juventus mira roma io adesso vi vorrei parlare di cosa ne penso io della situazione di juventus napoli inter roma e miran per il prossimo campionato di serie a allora penso io penso che la juventus quest'anno si sia rinforzata tanti tifosi a criticano ma che motivo c'è di criticare la squadra cioè i vato sarri diamo fiducia sarri forza ragazzi poi abbiamo fatto una bella squadra qui bisogna avere fiducia anche di quello quindi ho preso che la dio che sanno può essere da scudetto poi napoli secondo il napoli non ha preso tanti giocatori aspetta cura gli amers rodriguez proprio su mano las e difesa dei napoli per me è forte e difficile da battere quindi forza ragazzi da due settimane voi cercare di vincere con napoli anche un a zero pure bene dai poi tessina si viva penso l'inter l'inter perché con conte si è rinforzata però l'inter insieme a napoli potrebbero essere due squadre che da fastidio a juventus per lo scudetto quindi noi devono stare molto attenti e giocarci tutte le nostre battaglie in campionato in nera grandissima quattro in classifica penso è una bella lotta tra milan e roma io penso che la quattro in classifica possa essere per adesso penso la roma perché la roma penso che può soffrire un bel gioco anche lei quest'anno poi si è sicuro che zeko può rimanere alla fine zeko gli hanno rinnovato il contratto quindi adesso non è che può rimanere per mezz'eco rimane alla roma quindi la roma può fare la bella stagione questa sono sicuro fa una stagione meglio di quelle dell'anno scorso con forseca e quindi classifica la quinta ultima squadra e milan io penso che mi ha quest'anno rischierà champions però io vorrei che mi andasse in champions cioè non c'è andato l'anno scorso esistava per andare perché se l'anno scorso faceva qualche punto in più ci andava quindi quest'anno ce la può fare però deve migliorare deve migliorare tanti aspetti tra la difesa il centro campo e l'attacco comunque questo è un campionato che staremo a vedere cosa succede il campionato inizia sabato prossimo alle 18 con la nostra grande juve con dei parma quindi crediamoci fino alla fine forza juventus sempre ragazzi questa bisogna essere uniti e bisogna credici sempre forza ragazzi queste due cose ci vogliono sempre forza ragazzi sempre comunque e ovunque bisogna essere uniti per la nostra squadra la nostra juventus con questo è tutto ragazzi vi auguro una buona domenica a tutti è un grande abbraccio e fino alla fine forza juventus ciao ragazzi